Era divertente. Ok ragazzi, ricominciamo davvero. La maledizione dei mixer digitali, non ce n'è mai successo. Passiamo canzone, cara catastrofe, mi sa che l'avete sentita in parte però. La maledizione dei mixer digitali, non ce n'è mai successo. La maledizione dei mixer digitali, non ce n'è mai successo. La maledizione dei mixer digitali, non ce n'è mai successo. Facciamo risorgere i binari morti per i cucini forse a tutti. Facciamo risorgere i binari morti per portarci al discount per la acquisti. Il problema ripetevi che sono stati asfaltati i prati e non i preti Guardando i muratori che camminano sui tetchi Arancoli nostri imparantanti fracetti Che pianeti, che c'è bracci, vittanino in cucina e ci risponiretti I letti matrimoniali in cui dormiamo da soli I saccani investiti come i bambini mangiati dai nostri stilani Faccevi risorse, eliminare i morti e rifuggevi forse a tutti Faccevi risorse, eliminare i morti per portarci a tutti i campi di E devo fare la sua casa, la nostra casa, la nostra casa, la nostra casa Allora E questa è la faticazione del volumore, la nostra casa, la integrazione Dentro le stavate di distrazione, delle riconoscioni E interessamente con le persone più patricenti, che insolvi Mentre loro la mano a fare E su una vita vera, pubblicanti, che a saber E in questo piano, di dormire, durante le buonate, i complutenti E i nostri voti di spiagli, facciamo le stesse Dai no, ho bisogno di distrazione, senza un altro Un momento, come dire che vanno a Smart &G, che a smegli E se pucare, mi subito, mi ritri, ti incontri Ma non mi raggiungevi Se cosa raccuncheremo? A chi lo libera avremo? Per questo piano Non ti è di zero La nostra giornata La persona sta Estrutturato di tutti gli altri divertiti che sono stati più degradati quando sono arrivati gli artifici che ci hanno ottenuto i miei riscaldi e non si può fare un mito e non si può fare un mito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille, veramente. Sono molto contento di essere qua. Non capita molto spesso di passaggi. E, insomma, questo festival mi sembra... La prossima canzone, come tutte le altre, dice che a volte i periodi neri possono essere bellissimi. Per questioni dominali e sentimentali, per segnarti sulla schiena le mille strisce pedonali, per distruggere una fabbrica. Perché è troppo più fuori. Ero per i tuoi occhi all'ufficio degli oggetti smarriti. Per l'amore nel contegno, per fare dei ricordi e per poterti raggiungere, perché ci sono le targhe di sparire. Ero per i tuoi occhi all'ufficio degli oggetti smarriti. Ero per i tuoi occhi all'ufficio degli oggetti smarriti. Ero per i tuoi occhi all'ufficio degli oggetti smarriti. Ero per i tuoi occhi all'ufficio degli oggetti smarriti. Io mi vengo a prendere freddo da qualche parte. Io mi vengo a prendere freddo da qualche parte.